Un bacione Nilla! In classifica Nilla si è ripresa il primo, il terzo, il quarto, il quinto, poi... E' una patto... Nilla! Una mazziata di cose! Nilla, posso dire una cosa? Sì! Nilla, posso dirti una cosa? Da bambino ho sempre sentito papaveri al papere ed ho sempre pensato che lì un giorno me la cantasse per me e quel giorno io penso che sia qui, è arrivato, insomma. Avete un bambino appena nato? Da quando sono nata, ho detto. Ah, da quando è nata, sogna che tu canti papaveri al papere solo per lei? Sì! Sa che facciamo? Un pezzettino glielo facciamo cantare di papaveri al papere? La mia! E' il sogno di una vita! C'è il microfono che ti presta, Ale. Proviamo tanto, mentre si accorda con il maestro per poter fare questa cosa. Allora, addolorata, lei posso chiederle quanti anni ha? 43. 43 anni! Quindi lei sognava fin da bambina di sentire cantare solo per lei. Allora, Lilla, fai la dedica ad addolorata. Ad addolorata, con tutto il mio cuore, questa piccola parentesi di canzone, perché non la cantiamo tutta, però è per lei. Sì, un bacio. Bene! Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina. Che cosa ci vuoi far, che cosa ci vuoi far, che cosa ci vuoi far. Brava! Grazie, Lilla! Brava, Lilla! È proprio una regina! È contenta, Don Enrico! Grazie, grazie! Ho visto di più di più di più di più di più di più. No, però, insomma, è una buona consolazione. Grazie di aver giocato! Grazie a tutti!